farmacia letteraria un podcast della scuola di scrittura genius se avete una domanda mandate un vocale 351 877 9461 flavia cosa significa che una scrittura è sciatta era d'inverno e le formiche stavano asciugando il loro grano che si era bagnato ed ecco che una cicala affamata andò a chiedere loro del cibo ma le risposero le formiche perché durante l'estate non è fatta anche tu provviste rispose la cicala non avevo tempo ma cantavo armoniosamente e quelle ridendolo in faccia dissero beh se nel tempo estivo cantavi d'inverno balla chi non conosce la cicala e la formica la famosissima favola di esopo e chi di noi non è mai stato dalla parte della cicala non ha trovato così feroce quel beh se nel tempo estivo cantavi d'inverno balla eppure quella ferocia ci insegna come si sta al mondo niente ci può insegnare di più di una fiaba ci cresciamo dentro le favole grazie a loro impariamo a riconoscere la differenza tra bene e male ci siamo addormentati con le favole e ci sono svegliati di soprassalto nel cuore della notte perché barba blu ha fatto capolino i nostri sogni e cosa ci insegna la fiaba di esopo che nella vita chi è sciatto trascurato spesso si trova nei guai guai seri per la cicala che non sopravviverà l'inverno e guai seri per quello scrittore che avendo così poco cura di ciò che ha scritto troverà un mondo tutt'altro che disposto a coglierlo a braccia aperte sì perché la sciatteria è come nulla di fantasia fa piazza pulita di tutto a cominciare dai nomi e fa piazza pulita anche del lettore che di fronte a una pagina tirata via si sentirà privato di qualcosa tenuto fuori considerato meno di zero quasi quella storia fosse stata scritta per tutti tranne che per lui e non ci sono vie di mezzo di fuga chi è sciatto nella forma consegnando pagine piene di refusi lo sarà anche nella sostanza saranno sciatti i suoi personaggi più tinche che protagonisti antagonisti e svaniranno alla terza o quarta riga del racconto del romanzo alla prima rima baciata al primo cavo verso sarà sciatto il mondo intorno a loro così vago approssimativo fuori fuoco quasi una cartolina ma soprattutto e questa è la cosa più importante che fa la differenza è che per usare le parole di schopenhauer chi scrive in modo trascurato confessa che gli stesso non attribuisce un gran valore ai suoi pensieri e allora se non siamo disposti a ballare come la cicala dobbiamo imparare a volerci più bene a prenderci il tempo che ci serve di cui abbiamo bisogno perché il nostro romanzo prima di parlare di arturo e della sua isola di renzo lucia di adriano delle sue memorie parla solo e soprattutto di noi farmacia letteraria un podcast della scuola di scrittura genius in due minuti rispondiamo a tutte le domande che vi fate mentre leggete un libro oppure mentre lo scrivete radio genius se ti piace metti mi piace